Ciao ragazzi, io sono Donka e questo è il mio canale. Oggi in questo video parlerò di cosa tratterà il mio canale e un po' di me stesso. Il mio canale tratterà di video gameplay e di challenge che farò o con i miei amici o con la mia fidanzata, che vi presenterò in futuro se voi volete. Inoltre, come avete già visto, già ho caricato un paio di video su GTA che non hanno avuto molti visual. Ma come ben sapete è all'inizio e quindi è scontato che si fanno pochi visual e pochi mi piace. Ma se a voi piacciono, fatevi sentire, ovvero lasciate qualche like, un commento, anche se sarà un commento negativo, ma io ne prenderò spunto per migliorare. Vi parlo ora di me stesso, sono di Napoli, ho 18 anni da poco compiuti e nel tempo libero amo girare in macchina anche se non ho lava dente. Con mio padre, tra pochi giorni ho l'esame della patente e vi assicuro che ho un'ansia incredibile. Con il testo, ho parecchio, non sono denti tipo careati, ho l'apparecchio. Poi, ora vi dico un po' da scuola, sono uno studente, come dovete capire, vado al quarto anno e anche se odio studiare, odio. Infatti sono stato bocciato un anno, in primo superiore. E aggiungo che le materie che odio sono la matematica, l'elettronica e il tecnica che nel mio settore si fa proprio tanto. Cazzo, stavo cadendo. Sono un ragazzo abbastanza timido, infatti se avete fatto caso, mentre parlo tendo a tirare questa parte verso l'alto, perché quando mi trovo in difficoltà a parlare lo faccio. Infatti, ve l'ho detto, sono un ragazzo abbastanza timido e vi aggiungo che io adoro fare video. Sono ormai da più di due anni che vorrei fare video, ma non ho mai avuto l'opportunità, perché mi manca l'attrezzatura e tante altre cose. Anche perché sono un ragazzo timido e infatti sto studiando con le mani. Ora, da poco ho comprato la PS4 e sarà qualche 2-3 mesi che stavo cercando un po' di capire come funzionava. Ho domandato di come si fanno i video sulla PS4. La qualità non è ottima dei miei video, è vero. Però tento di migliorare e spero che voi mi aiutiate, spero che mi supportate. Niente, questo è il mio video di presentazione. Se avete delle domande, scrivetelo sotto nei commenti. Se volete, seguitemi su Facebook, perché mi sembra che ho raggiunto il limite massimo di 5.000 amici, mi sembra. Se volete essere aggiunti, mi mandate un messaggio che ho più di 1.400 richieste in sospese, quindi sarà un po' difficile trovarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ah, anche su Instagram, mi chiamo Don Carmine. No, Don Antonio, scusate. Mi chiamo Don Antonio e se volete seguitemi. Vi lascio un saluto. Alla prossima. Ciao!